ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video come vedete sono a casa di roberto e ho deciso ho il giubbietto scusatemi perché devo portare fuori a lady però ho deciso di fare questo video che è uno scherzo che farò mio padre come avete capito dal titolo e chiamerò mio padre adesso sto facendo il video con il mio cellulare poi chiamerò con il telefono di roberto chiamerò mio padre e farò lo scherzo che dirò che mi sono fatta il septum quindi il piercing qua al naso mio padre odia i piercing mia madre compresa finché sono i tatuaggi va bene infatti c'hanno quattro gli piacciono anche a loro quindi ok però per quanto riguarda i piercing invece è un casino perché loro proprio non lo sopportano sì ok mi sono fatta vari filmpiesi che mi ero fatta quella al naso vabbè dopo non ce l'ho vabbè ho fatto quella alla lingua all'ombellico ho levati quasi tutti mi è rimasto questo praticamente però comunque tanto sane vi disse grande vaccinata maggiorene non vogliono ok tutte le cose eccetera eccetera tutte queste cose qua però capirà adesso io vado a dire che mi sono fatta un altro piercing soprattutto quel septo che mi pare dici mi pare poi dice che sei un toro se te lo fai no così per fare uno scherzo perché so che non gli piace allora io adesso lo chiamo c'ho l'ansia perché pare che è vero comunque adesso lo chiamo metterò viva voce e ci girerò un po intorno insomma dai vediamo un attimo lo chiamo eh metto io a voce se sentirà bene tutto alto il volume speriamo che sentite metto più vicino non c'è nessuno papà eh oh ascolta tutta posta a casa no dai è andata a poco la casa dai eh che ti devo rispondere oh ascolta no dai aspetta avevi cenato no dai non basta fa lo scemo ascolta papà eh no ascolta allora te devo di una cosa no no te devo di una cosa però basta che non ti arrabbi a casa eh e però mi devi promettere che a mamma non gli dici niente ma va bene vai allora aspetta no è una roba importante willa dia che aspettasse un attimo aspetta nanno allora lo sai cos'è il septum? eh lo sai non viene di me ferire no non lo so non lo sai il septum sarebbe quel piercing al naso che te lo chiami eh che sei un toro no 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 eh no me lo so fatto oggi sì te lo levi mi dispiace ne cosa ne ho proprio oggi quello quello è una cosa che odio guarda toro non ti rappresento anche io quello faccio marabbi eh ma ormai l'ho fatto non eh te lo levi te lo fa tagliare e lo porti via eh sì lo faccio tagliare adesso sì con il dico e te ne hai la forza te ne hai la forza e poi ti via non ci provo a fare niente però l'unica cosa che sopposta è proprio quello papà non ci provo a fare niente ormai l'ho fatto eh vabbè te lo fai tagliare se no devo tagliare io guardia una mia ammiglia a casa eh ma io adesso no scusa se hai rito ma io adesso non lo posso levare se no mi fa infezione devo aspettare che si cura e poi in caso lo levo capito? sì io capisco eh ciao no papà papà aspetta dai oh non è vero è uno scherzo stai su youtube sto a fare il video ma stas eh sai da quant'è è un pezzo che ci stava a pensare dico adesso vi faccio lo scherzo desta roba perché so che mi padre odia i piercing dai saluta i miei iscritti ciao a tutti io sono cazzato come una bella cosa eh ho sentito c'è Roberto che si sta ancora da ride eh eh vabbè vabbè dai saluta e niente dai diciamo che è riuscito lo scherzo dai alla fine è riuscito c'ho avuto un'ansia perché so che mi padre non non supporta i piercing e ste robe proprio le odia e comunque dai ho voluto fare questo video un po' così un po' stupido diciamo dai di questi scherzi qua sto prank diciamo a mio padre che è un pezzo che ci stava a pensare sinceramente di fare questo scherzo e solo dopo non non mi scordavo non c'evovo voglia eccetera eccetera dico dai dico dè porto fuori il cane prima di portarla fuori dico faccio questo scherzo a mio padre insomma comunque ci ha cascato con tutte le scarpe va bene avete sentito quanto è matto mi padre all'inizio non ti scemo bastarda mi ha detto ci ha cascato ma il povero ho detto che non li sopporta proprio questo qui è l'unico che non sopporta proprio è che lo odia infatti c'ho soltanto due septum finti e quelli mi li metto così mi pare lo sa che è finti non è che mi dice niente lo posso levare quanto mi pare e infatti ha fatto come per dire che si è levato un peso non so se l'avete sentito che ha fatto tipo che ha sbruffato come per dire così no perché si è levato un peso che non me lo so fatto insomma e niente dai io spero che comunque questo video di questo scherzo che ho fatto a mio padre vi sia piaciuto se è stato così mettete un pollice in su e sotto il video se volete commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video ciao ciao